mister 15 per questa straordinaria partita cosa ne pensa come sta andando la squadra ma diciamo che i ragazzi da quando che siamo arrivati stanno assimilando i nuovi sistemi che vengono proposti e oggi in un campo molto difficile pesante pieno di acqua molto fangoso hanno cercato sempre di giocare la palla da dietro si sono viste delle belle trame diciamo che oggi diciamo abbiamo coronato un lavoro dove ci ha portato a realizzare cinque regole la prossima che comunque noi giocheremo sempre fuori casa ma noi affrontiamo partita dopo partita noi non stiamo guardando al momento la classifica stiamo cercando di cercare di fare più punti possibile alla fine del giorno di andata qualcosa l'abbiamo recuperato credo noi siamo così diciamo i ragazzi che ancora non ho visto neanche i risultati che abbiamo accorciato la classifica ora siamo a meno 8 dalla dalla prima dico vediamo di qua dicembre cosa succede poi la società prenderà se ci sarà bisogno di fare qualche intervento o di rimanere per quelli che siamo la squadra oggi ha dimostrato di essere nettamente superiore all'avversario grazie mister grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te